oggi come avevo anticipato parleremo di delivery experience del futuro e abbiamo due ospiti d'eccezione che sono alberto serenelli di movo e eccoci e alberto ventura di rajà e che andranno a coprire un po la parte come dicevo prima della delivery experience pre spedizione poi ce ne parleranno meglio loro in particolare io invece sono roberto fumarola si o ecco founder di capla e direi di cominciare direttamente ed entrare nel vivo di questo argomento di questo webinar e passerei la parola ad alberto serenelli e con movo pack hanno trovato una nuova modalità di concepire il diciamo il packaging soprattutto per quanto riguarda il settore e commerce rendendolo praticamente quasi un servizio poi ora non voglio fare troppi spoiler ma passo la parola ad alberto grazie grazie mille roberto innanzitutto anche per l'invito e grazie anche alberto a rajà acqua plasma per anche tutto il lavoro dietro le quinte per questo webinar e molto volentieri vi racconto chi siamo noi di movo pack cosa facciamo adesso sto cercando di cambiare la slide roberto non so se mi hai abilitato ricontrollo teoria sì ok sì 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 direi di sì andranno avanti ok perfetto sì sì ok ce l'abbiamo fatta perfetto allora noi siamo di movo pack movo pack è una startup innovativa vocazione sociale nata nel 2021 e siamo la prima azienda ad avere portato in italia quello che è un servizio quindi a tutti gli effetti è un servizio di packaging circolare e riutilizzabile per e commerce cosa significa riutilizzabile per noi sicuramente noi vogliamo essere quella che è un'evoluzione del packaging a cui siamo abituati quando riceviamo un ordine e commerce quindi sicuramente pensiamo a per esempio le buste di plastica che spesso i corrieri quindi provider di servizi logistici forniscono gratuitamente agli commerce ovviamente bartolini poste italiane quindi chiaramente c'è un'esperienza di acquisto leggermente inferiore e negativa rispetto appunto a quello che può essere un packaging brandizzato perché chiaramente ricevere un packaging con il giallo di poste italiane o con appunto la scritta i loghi bartolini non va a rappresentare bene quella appunto che è l'esperienza di acquisto poi da un brand non so voi che slide stiate vedendo io sono bloccato ancora la prima abbiamo movo il primo set ok adesso c'è la prima ok ci siamo quindi l'evoluzione del packaging quindi un packaging riutilizzabile per più di 20 volte ecco rispetto all'argomento che stavo trattando partirei con quello che è l'impatto marketing in cui noi crediamo moltissimo e che è uno dei topic di questo webinar perché l'impatto marketing per noi di Movopac ma parlando appunto anche con Rajah e Copla per noi è fondamentale perché chiaramente in quella che è l'esperienza di acquisto online mancano diversi aspetti magari di un'esperienza di acquisto in uno shop fisico quindi non possiamo vedere per esempio la vetrina di un negozio non possiamo parlare con i commessi o le commesse che lavorano non possiamo toccare il prodotto che vogliamo acquistare quindi chiaramente quella che è l'esperienza di acquisto e di ricezione di unboxing dell'ordine fatto da un e-commerce diventa fondamentale ha un ruolo principale sia per quanto riguarda la spedizione quindi Copla chiaramente sono più esperti di noi quindi anche il servizio clienti, la velocità tutte le informazioni relative appunto alla spedizione sia poi al momento della ricezione dell'imballaggio quindi del packaging ecco noi crediamo moltissimo in questo momento in cui chiaramente si crea la prima impressione del cliente rispetto appunto al brand o all'e-commerce da cui sta acquistando quindi noi di Movopac quando parliamo con le aziende con cui lavoriamo cerchiamo appunto di vivere, far vivere un'esperienza tailor made sulle necessità e le esigenze dei clienti quindi chiaramente con dimensioni, strutture, materiali anche appunto per un touch and feel diverso del packaging sigilli e metodi di chiusura quindi cerchiamo appunto di realizzare un packaging su quelle appunto che sono le idee marketing degli uffici marketing con cui parliamo a fianco al design c'è un importante argomento relativo invece alla personalizzazione ecco attualmente nel mondo del packaging reutilizzabile noi siamo l'unica azienda e la prima azienda a personalizzare il packaging quando parlo e parliamo di Movopac appunto con le diverse aziende con cui lavoriamo una cosa che diciamo sempre è che il packaging deve essere visto come una tavolozza bianca dove poi gli uffici marketing, gli uffici comunicativi delle varie aziende insieme appunto anche ai nostri uffici, ai nostri team design possono andare a creare quella che è una comunicazione che possa arrivare direttamente al cliente quindi immaginiamoci appunto un cliente che riceve il packaging e deve e vuole tenere il packaging nelle sue mani per leggere claim, per leggere e vedere quelle che possono essere grafiche come per esempio appunto Yamamai, in questo caso una foresta tropicale quindi il nostro obiettivo è proprio far vivere un'esperienza d'acquisto proprio pensata al marketing ecco questo fino a pochi anni fa non veniva considerato anzi spesso sottovalutato e quindi quando si pensava al packaging soprattutto nelle grandi aziende si pensava a uno strumento di logistica quindi è uno strumento che serviva e funzionava solo appunto per trasportare la merce e proteggerla ecco noi ad oggi crediamo invece in un forte valore e impatto marketing sicuramente accanto a quello appunto che è l'esperienza marketing c'è poi il nostro valore aggiunto della sostenibilità quindi torniamo al fatto che il nostro packaging sia l'unico a poter essere riutilizzato in media 20 volte ecco noi abbiamo preparato un veloce video di un minutino e quattro secondi per appunto mostrarvi come funziona la nostra logistica circolare che coinvolge quindi chiaramente il cliente finale e poi appunto Movopac che si occupa di completare il cerchio Roberto se sei d'accordo io lo condivido vai vai posso partire eccolo qui e poi lo commentiamo magari insieme e poi Grazie a tutti. Eccoci qui. Allora, aspettate che riparte. Perfetto. Quindi come funziona questa logistica circolare? Primo passo, chiaramente il cliente finale, il consumatore finale riceve il packaging a casa. C'è l'esperienza di unboxing, quindi quello che noi definiamo l'effetto wow che cerchiamo con le nostre grafiche, con le nostre comunicazioni. E poi ogni nostro packaging si può ripiegare grazie al suo design fino a diventare, noi la definiamo, una cartolina. Perché appunto grazie a una spedizione prepagata all'interno del packaging, che il cliente finale deve semplicemente mettere in bella vista, il packaging può essere rispedito come appunto una cartolina tramite qualsiasi cassetta postale in Europa. Ecco, per trovare la cassetta postale più vicina e quindi anche per rendere più semplice l'esperienza del cliente finale, basterà scannerizzare il QR code presente su ogni nostro packaging per far sì appunto che si apra una mappa con tutte le cassette postali più vicine alla posizione del telefono, del cliente che vuole riconsegnarlo. Una volta riconsegnato il packaging, quindi inserito nella cassetta postale, il packaging tornerà a noi di Movopack, noi andremo a sanificarlo, igienizzarlo e saremo pronti a rispedirlo all'e-commerce per la seconda spedizione. Ecco, in media noi contiamo, sulla nostra esperienza, 20 utilizzi in media. Quindi chiaramente, poi lo vedremo tra pochissimo, un risparmio di CO2 molto importante. Passando proprio a quello che è l'impatto ambientale di Movopack, che noi definiamo rivoluzionario, noi abbiamo innanzitutto un LCA, quindi un Life Cycle Assessment, che è un certificato di sostenibilità, che abbiamo realizzato comparando il nostro packaging a quello che è uno standard di mercato, quindi un classico packaging anche molto sostenibile, quindi un packaging riciclato. Ecco, noi su 20 utilizzi andiamo ad abbattere le emissioni di CO2 del 75%, risparmiamo energia elettrica del 72% e c'è un utilizzo inferiore di acqua del 75%. Quindi questi sono dati chiaramente su 20 utilizzi, ma un dato molto importante che fa pensare è che già al terzo riutilizzo dello stesso packaging noi abbiamo un risparmio del 50% su questi indici. Questo perché chiaramente il nostro packaging, facendosi che un solo packaging possa fare 20 spedizioni, quindi 20 cerchi, circoli, evitiamo 20 cicli di produzione di nuovi imballaggi e 20 cicli poi di smaltellamento invece di packaging usa e getta già utilizzati. Ritornando a quella che forse è la parte, eccola qua, la parte sempre marketing nella nostra esperienza, noi siamo sul mercato ormai da un anno e mezzo, collaboriamo già con diverse aziende in diversi settori, tra cui ho il piacere anche di mostrare Rajah, che è il nostro partner. Noi con Rajah attualmente siamo le uniche aziende sul territorio italiano a proporre quello che è un packaging riutilizzabile. Abbiamo creato tre tipologie, tre dimensioni per Rajah con una grafica personalizzata ed oggi appunto siamo le uniche aziende a proporre questo tipo di packaging. Come vedete ci sono diversi settori, diverse aziende che utilizzano il nostro servizio, quindi chiaramente abbiamo un forte impatto su quelle che sono le aziende di moda, quindi fashion, ma anche appunto abbiamo Eco Store che fa cartucce per stampanti. La prima farmacia che utilizza invece il nostro packaging non versione flessibile, come avete visto, ma anche box. Quindi abbiamo creato, tra l'altro ce l'ho qui da mostrarvi, una box rigida che va a proteggere quelli che possono essere prodotti da farmacia o da cosmetica e anch'essa a fine del momento di unboxing si ripiega e diventa una cartolina con una spedizione prepagata che può essere poi rispedita tramite qualsiasi cassetta postale. Quindi siamo aperti diciamo a tutti i settori di mercato, non solo al fashion. Prima di parlare appunto invece di un argomento attuale, concludo invece con quelle che sono una cosa molto importante per noi, cioè le recensioni dei clienti, dei nostri clienti, quindi dei consumatori finali. Ecco, nella nostra esperienza abbiamo visto appunto come al 90% i consumatori finali esprimono le proprie recensioni, le proprie opinioni sui vari siti come Trustpilot, Fidati, proprio su quella che è l'esperienza di ricezione del prodotto, quindi su le modalità e le informazioni ricevute, per esempio con Papla, ma anche appunto poi sull'imballaggio. Abbiamo visto appunto come venga apprezzato moltissimo in quello che è il mondo dell'imballaggio il fatto che non ci sia il cosiddetto overpackaging, quindi non troppi packaging, non troppi rifiuti che poi si creano. Ecco, è proprio lì che vogliamo arrivare noi con Movopac, cioè andare a sostituire magari quel momento di generare un rifiuto, quindi buttare via un packaging, con invece un momento di riutilizzo del packaging. Per quanto riguarda il nostro tasso di rientro, abbiamo un 40% in media, chiaramente appunto è una media tra tutti i nostri clienti e dipende da molte variabili, questo tasso di rientro. Nel senso che abbiamo aziende più attente alla sostenibilità, quindi anche con clienti più attenti alla sostenibilità, dove tocchiamo anche tassi di rientro del 70-75%. Mentre abbiamo invece aziende molto molto grandi, con diciamo una varietà di clienti molto diverse tra loro, in cui andiamo ad avere tassi di rientro magari più bassi, intorno al 20%. Quindi una media comunque del 40%. Il 60% considera Movo una ragione aggiuntiva per comprare su un e-commerce, quindi chiaramente quando ci vede magari nel checkout di un'azienda, perché spesso appunto le aziende ci propongono come opzione in checkout, va su quell'e-commerce. E il 79% dei consumatori consiglia Movo ad amici e conoscenti. Questi dati derivano appunto dai vari survey che abbiamo fatto su diverse aziende e nostri clienti. Concludo il mio breve pitch. Per quanto riguarda invece un tema molto attuale, che si legge praticamente ormai tutti i giorni su quotidiani, si vede anche alla televisione, che è la famosa legislazione dell'Unione Europea riguardo gli imballaggi. In generale non solo gli imballaggi e-commerce, ma tocca diversi settori, tra cui forse il più toccato è il settore alimentare, ma c'è comunque una normativa anche molto importante sull'e-commerce, quindi proprio l'argomento centrale del nostro webinar. Che regolamento è? È un regolamento appunto che introduce nuovi obblighi più avanti e una nuova disciplina per quanto riguarda sia il riciclo dei packaging, per migliorare quella appunto che è la sostenibilità, i processi di riciclo, e poi quello che interessa magari più a noi di MovoPack, l'introduzione appunto di quello che è il riutilizzo del packaging. Per fare una piccola, diciamo, iter legislativo, il 30 novembre 2022, quindi esattamente quasi un anno fa, c'è stata la prima proposta della Commissione Europea, proprio appunto che ha introdotto una prima legislazione, una prima proposta. Si è discusso per tutto quest'anno rispetto appunto a questa prima proposta, chiaramente non tutti gli stati erano a favore, ci sono state molte critiche, chiaramente molti stati, diciamo, nordici, erano molto a favore di questa normativa, magari stati come l'Italia, in cui c'è un ottimo tasso di riciclo, erano meno favorevoli, e si è arrivato alla settimana scorsa con la prima approvazione da parte di quattro commissioni parlamentari, appunto del Parlamento Europeo, di questa proposta. Proprio oggi, il fatto ha voluto, il 21 novembre 2023, si è discussa e si voterà in plenaria del Parlamento Europeo questa proposta, che poi dovrà essere approvata successivamente il 18 dicembre dal parte del Consiglio Europeo. Prima di vedere appunto gli obblighi che introdurrà, qualora passerà appunto questo regolamento, voglio fare anche una piccola introduzione sullo strumento legislativo scelto dall'Unione Europea, nel senso che, per quanto riguarda in generale gli imballaggi o comunque anche la plastica monouso, da sempre l'Unione Europea, fino dal 1980, ha scelto appunto quelli che erano strumenti legislativi, definiamoli più soft, quindi le direttive. La direttiva è lo strumento legislativo che prevede un obiettivo per tutti gli stati membri dell'Unione Europea, ma lascia libertà ad ogni stato di ricepire la direttiva con strumenti legislativi interni per raggiungere questi obiettivi. Ecco, è successo negli scorsi anni, soprattutto appunto dal 2000 in poi, con spesso obiettivi che non venivano raggiunti dagli stati membri. Per questo, in questo caso, l'Unione Europea ha scelto il regolamento europeo, che è lo strumento legislativo invece più forte, più invasivo, perché non solo fissa gli obiettivi per gli stati membri, ma va anche a essere autonomamente ricepito direttamente dagli stati. Quindi gli stati sono obbligati a seguire quello appunto che è il dettato della legge del regolamento. non potranno recepirle e scegliere un strumento interno per raggiungere gli obiettivi. Cosa sono questi obiettivi, che poi si trasformeranno appunto in obblighi? Per quanto riguarda il riutilizzo dei packaging, entro il 2030 il 10% del packaging utilizzato nell'e-commerce dovrà essere riutilizzabile, e questo obbligo si estenderà, qualora chiaramente il regolamento passerà, entrerà in vigore, al 50% entro il 2040. Quindi chiaramente è un'ottima presa di posizione da parte dell'Unione Europea per quanto riguarda il riutilizzo del packaging. Io ho terminato qui, sarò felice poi di rispondere a tutte le domande successivamente, e passerei la palla ad Alberto Ventura di Rajà per continuare. Perfetto, allora grazie Alberto. Passiamo all'altro Alberto, un attimo che cambio il controllo della tastiera. Se collabora. Zoom un attimo. Eccolo. Eccoci qua. Perfetto. Aspetta. Alberto dovresti essere in grado adesso di controllare? Sì. Perfetto. Proviamo, ok. La tua parola. Perfetto. Ciao a tutti, mi chiamo Alberto Ventura, sono il responsabile marketing di prodotto di Rajà Italia. Chi è Rajà Italia? È una filiale del gruppo Rajà, siamo presenti in tutta Europa, casa madre francese. Esistiamo da 70 anni, e da 70 anni abbiamo la sostenibilità nel nostro DNA, perché abbiamo cominciato vendendo cartoni di seconda mano. Quindi anche la nostra storia, diciamo così, ci accompagna in un discorso di sostenibilità degli imballi. Per quanto riguarda l'Italia, nasciamo nel 2006 con la nostra filiale di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, e siamo un distributore molti specialista di imballaggi, forniture per il magazzino e attrazzature per l'industria. Su base volontaria, da due anni pubblichiamo il nostro bilancio di sostenibilità. Perché molti e-commerce scelgono di lavorare con noi? Perché siamo in grado di consegnare molto velocemente tanti prodotti, dare un servizio logistico anche su misura, e di accompagnare i nostri partner e-commerce nella transizione ecologica e nella personalizzazione dei propri imballi. Tre macro-argumenti che vorrei toccare molto, molto velocemente, poi rimanendo disponibile per qualsiasi domanda o approfondimento. Gli imballaggi eco-responsabili, facendo un attimo una panoramica su quello che noi chiamiamo essere le 5R, la servitizzazione, o meglio, il packaging as a service, in inglese, e la personalizzazione come messaggio nella consegna. Allora, partiamo dalle nostre 5R sugli imballi, quindi partiamo dalla prima, dal ridurre. Ridurre il consumo di materiali d'imballo è sicuramente possibile, è importante e ci permette di ridurre il peso e il volume del nostro imballo. Scegliere, per fare un esempio banale, una scatola della corretta misura ci permette di risparmiare tre volte, sia in termini economici che in termini di sostenibilità. Ridurre il vuoto di una scatola, scegliere una dimensione curata della scatola per il prodotto che andiamo a spedire, ci permette di consumare meno materiale d'imballo, una scatola più piccola significa meno cartone, di mettere meno riempitivo, può essere sostenibile o meno, ma comunque meno ne utilizzo, meglio è, serve il riempitivo più adeguato per proteggere un prodotto, ma non in eccesso, e riduco soprattutto lo spazio e il volume che utilizzo sul mio pallet e di conseguenza su un camion. Quindi da un punto di vista ambientale, ridurre il sovraimballo, togliere tutti gli spray che ci fa risparmiare materiali d'imballo, materiali di riempimento, impatto carbone sul trasporto. Il 20% di spazio vuoto in una scatola su un camion vuol dire un camion in più ogni 5. Riutilizzare. Alcuni imballaggi sono stati studiati per essere riutilizzati più volte, abbiamo appena visto l'esempio di Movo. Non solo questo tipo di prodotto, ma anche, giusto un esempio, parliamo di e-commerce, parliamo di Black Friday, purtroppo ci saranno tantissimi resi. Vedremo dopo come i resi stiano aumentando moltissimo. Ad esempio l'utilizzo di una busta con la doppia banda adesiva che permette il rientro di un prodotto può sicuramente far risparmiare anche qua del materiale d'imballo e in qualche modo farci percepire il nostro e-commerce come più sostenibile. Riciclare. Spesso l'imballaggio è indispensabile per la nostra attività e quindi dobbiamo valutare l'utilizzo dei materiali ecologici a monte, quindi materiali che siano o da fonti sostenibili come le scatole o riciclate di suo e avalle. Quindi da un lato una corretta etichettatura ambientale aiuta il nostro cliente finale nel corretto smaltimento del prodotto e poi pensare sempre avalle cosa succede al nostro imballo una volta che viene gettato. Un esempio banale. Chiudere la nostra scatola con un nastro in carta rispetto ad un nastro in plastica, magari il nastro in carta di suo non è così tanto sostenibile rispetto ad un nastro in plastica, ma nella fase finale del ciclo di vita del nostro percorso di acquisto fa sì che possa essere smaltito assieme alla scatola e questo sicuramente semplifica la vita del cliente e permette una maggiore riciclabilità. In generale ripensare, quindi grazie anche alla ricerca, tutti gli imballaggi si sono evoluti, sono cambiate le forme, sono cambiati i materiali, ci sono innovazioni in quasi ogni sottocategoria di prodotto di quelle che affrontiamo. Le buste in plastica sono state affiancate da buste in carta o da buste in plastica riciclata. Il nastro adesivo in PVC è stato sostituito prima da un polipropilene che è un pochino meglio e successivamente è affiancato da un nastro in carta. Abbiamo la carta gommata. Se gestiamo una logistica, direttamente o indirettamente, ci servono veramente 23 micron di spessore di film estensibile, di cellofan, possiamo valutare uno spessore magari inferiore con una performance superiore o equivalente, magari possiamo provare un'alternativa a un film riciclato. Nel nostro riempitivo possiamo testare qualche materiale differente rispetto al pluribulling in plastica con le gomme, con le bolle. Sicuramente alternative ne abbiamo in qualsiasi dimensione del nostro percorso di imballo. Scegliere soluzioni ecosostenibili, quindi, è un must per chi fa e-commerce. È quasi, oserebbe dire, un dato per scontato da molti clienti. Di nuovo, la riduzione dei vuoti e la scelta del fermato più adatto significa meno materiale e meno gasolio. Un riempimento corretto della scatola ci permette di evitare dei danneggiamenti, quindi un danno economico, ma anche di ridurre i resi e quindi la rispedizione di nuovo prodotto e quindi anche qua un impatto ambientale più ridotto con un imballo pensato al meglio inizialmente. E l'utilizzo di materiale di imballo riciclato o riciclabile o riutilizzabile. Tendenza 2023. Come accennavamo, i resi stanno aumentando tantissimo. C'è, da un lato, più consapevolezza da parte del cliente, ma non di tutti. Molti e-commerce stanno facendo marcia indietro, quindi il famoso caso di Zalando, dei clienti che comprano nove paia di scarpe per restituirne otto. Ecco, sicuramente quello ha fatto scuola in un senso e nell'altro. C'è un quadro legislativo che, come ha accennato Alberto di Movo, sta cambiando con un'imposizione sempre più stringente e corretta di un utilizzo di packaging o riutilizzabile o riciclabile. Ovviamente dipende dalla tipologia di prodotto, dipende dal ciclo logistico, ma sicuramente si va in questa direzione anche da un punto di vista normativo. Le obbligazioni più stringenti di questo nuovo regolamento sono sicuramente lo spreco del packaging primario, del packaging soprattutto nell'industria alimentare, quindi i famosi mandarini già sbucciati con un vassoio di polistirolo e sopra del film. Sicuramente questa è la prima area che verrà in qualche modo attaccata, ma tutti insieme dobbiamo muoverci a essere in qualche modo promotori di una cultura dell'imballo più sostenibile. Quali sono le sfide che ci troviamo davanti? Sicuramente un imballo corretto per i nostri prodotti, avere una strategia a monte di come imballare, di capire a valle come il nostro imballaggio verrà smattito, riducendo ovviamente i costi di logistica e di stoccaggio, riducendo i costi di trasporto, anticipando per quanto possibile il reso del prodotto. Inviare un imballo, utilizzare un imballo che è pronto al reso non è visto non più come un qualcosa di dequalificante nei confronti del prodotto che andiamo a vendere, di mancata fiducia in noi stessi, diciamo nel prodotto che andiamo a proporre al nostro cliente, ma è visto come un prevenire, un'abitudine che è sempre più frequente, quella del reso, quella del recesso, e quindi l'aver studiato un imballo che permette il reso sicuramente è ben visto da parte dei clienti, soprattutto dei clienti più attenti. Alcune tra le soluzioni che offriamo, dunque abbiamo parlato di ridurre i vuoti, sicuramente scegliendo un formato di scatola adatto al nostro prodotto e alle nostre spedizioni, oppure una busta protettiva in carta, oppure in plastica riciclata. Riempiamo i vuoti che ci sono, comunque con materiale protettivo che sia sostenibile, carta, delle patatine bio in amado di mais, dell'imballaggio tessile ottenuto da lenzuola alla fine del loro ciclo di vita. Se vogliamo utilizzare del plurible film a bolle, possiamo utilizzarlo o di spessore inferiore, oppure un plurible con una parte di riciclato. Nel chiudere la carta valutiamo un nastro in carta, oppure della carta gommata, che possiamo anche facilmente personalizzare con dei minimi accettabili. Cerchiamo di ridurre, se gestiamo direttamente, indirettamente, un processo logistico, la nostra carbon footprint, con del film sensibile a spessore magari più basso, e magari con una componente di riciclato, fino ad arrivare in alcuni casi al film sensibile fatto direttamente in carta. E di nuovo cerchiamo di facilitare a monte il reso del cliente. Packaging as a service o servitization. Quindi dall'imballo, detto un po' pomposamente, dall'imballo come prodotto all'imballo come servizio. Abbiamo visto prima Movo. Anche noi vendiamo, o meglio, proponiamo alcuni servizi per l'imballo, quindi affiancando alla vendita di prodotti la vendita di servizi. Non l'abbiamo inventato noi. L'imballo come servizio esiste da decenni. Se pensate al Pallet a Rendere o aziende tipo CEP che fanno noleggio di pallet o banalmente alle cassette ortofrutta nella grande distribuzione organizzata alimentare, sono servizi di packaging, di packaging a rendere. Quindi non è che abbiamo inventato assolutamente né noi né Movo il concetto di imballo come servizio, ma lo stiamo cercando insieme, ovviamente ciascuno per il proprio mestiere, diciamo così, di applicare all'e-commerce. Quindi può essere il packaging un servizio per l'e-commerce? Assolutamente sì. Molti e-commerce appunto già, tra di voi probabilmente, si occupano già con terze parti della gestione logistica per un migliore efficientamento, per una migliore scalabilità. Noi noleggiamo, diamo in leasing, con noleggio operativo, dei macchinari per la produzione di riempitivi in carta o in bolle d'aria in plastica riciclata per ridurre, diciamo così, l'impatto del riempitivo e per ridurre i costi di stoccaggio degli e-commerce a cui ci rivolgiamo. Se pensate, una risma di carta permette la creazione di riempitivo sostenibile, facilmente smaltibile, riciclato e riciclabile e permette ulteriormente di risparmiare sui costi logistici rispetto a stoccare nel nostro piccolo magazzino grossissimi rotoli di film a bolle. Un esempio, un altro sistema di protezione, abbiamo parlato in questo momento di protezione più da un senso, in un senso, diciamo così, fisico, protezione da urti, protezione a prova di corriere. Veniamo, adesso che è novembre, fa un po' più freddino, ma veniamo da un'estate che è lunga sei mesi. Non voglio affrontare qua il tema della logistica del freddo, della spedizione dei prodotti alimentari freschi, meriterebbero, diciamo così, webinar da tre, quattro ore. Parliamo anche però di tutta una serie di prodotti che sono in qualche modo sensibili, anche se non così tanto come un prodotto alimentare, diciamo così, agli sbalzi di temperatura. se pensate all'estate che spesso e purtroppo in un ciclo logistico normale, tramite un qualsiasi corriere, spesso la merce rimane in questi cassoni di camion non adeguatamente refrigerati, spesso su piazzale, spesso raggiungono temperature superiori a 40-50 gradi sotto il sole, sicuramente un buon protettivo per il nostro prodotto che abbiamo protegge anche, in questo caso la carta, un buon materiale, protegge anche da degli sbalzi di temperature eccessivi che possono in qualche modo danneggiare il nostro prodotto, penso ad esempio a tutto quello che è cosmetico. Personalizzazione, spesso tutti parliamo di personalizzazione e pensiamo come e-commerce al nostro imballaggio primario, quindi alla nostra scatola all'imballo al look and feel del nostro singolo prodotto. Noi ci occupiamo di imballaggio secondario quello per la spedizione e anche qua c'è un ruolo fondamentale che ha il nostro imballaggio secondario nella comunicazione in particolare attraverso la scelta dei materiali. Abbiamo già detto un materiale che è a monte riciclato, a valle riciclabile e soprattutto andare verso il riciclo monomateriale agevola lo smaltimento da parte del nostro cliente. È ben visto perché comunque tolgo del lavoro al mio cliente soprattutto se è particolarmente sensibile a tematiche di sostenibilità. Un nastro in carta comunica ecologia e agevole appunto il nostro cliente. Ridurre il vuoto comunica una migliore attenzione all'imballo al nostro cliente e la personalizzazione del design anche dell'imballaggio secondario e non è necessario andare a ovviamente con dei volumi crescenti ci sono ovviamente dell'economia di scala ma per cominciare per una start-up anche una piccola customizzazione del design basta magari una scatola standard con un nastro personalizzato basta una buona etichetta basta volendo una sovrastampa sulla scatola di cui magari ho tanti formati diversi e non ho i minimi d'ordine per ordinare una scatola fatta col mio cliché con la mia fustella eccetera sicuramente la personalizzazione anche del packaging secondario fa parte dell'unboxing experience l'unboxing experience comincia probabilmente da un punto di vista di ricezione nel momento in cui ci citofano il corriere e prendiamo il pacco nelle nostre mani possiamo sicuramente utilizzare anche il pack secondario per inserimento di coupon omaggi campioni cataloghi quindi il messaggio è tutto comunica se vogliamo comunicare o la vendita di un prodotto sostenibile o l'utilizzo di soluzioni packaging sostenibili pensiamo anche all'imballaggio secondario in conclusione tra messaggi imballaggi eco responsabili prima cosa veramente riduciamo i vuoti e cerchiamo di scegliere il formato più adatto riempiamo in modo corretto il prodotto affinché non venga danneggiato ma non sovra riempiamo la scatola è veramente fastidioso ricevere una scatola che ha 7-8 giri di plurible perché magari non abbiamo scelto il formato corretto di scatola e il prodotto balla dentro la scatola oppure perché spediamo tanti volumi differenti e abbiamo scelto un singolo formato di scatola utilizziamo un materiale riciclato riciclabile o riutilizzabile pensiamo nello sviluppo nella crescita del nostro e-commerce nella scalabilità se gestire in-house oppure tramite delle logistiche di terze parti pensiamo direttamente indirettamente al noleggio di macchinari di riempimento per un imballaggio più sostenibile e anche per una miglior controllo e gestione dei costi per evitare un grosso costo di stoccaggio di materiale riempitivo in plastica e pensiamo alla personalizzazione come a un messaggio che mandiamo al nostro cliente prima che sul nostro prodotto su come diciamo così su come il cliente riceve il nostro prodotto e di quali sono le azioni materiali che deve fare nei primi secondi in cui il cliente riceve la scatola o la busta del nostro prodotto apro apro facilmente apro con un nastro mi serve un taglierino è facile devo buttare tutto insieme devo pensare a separare quali sono le azioni materiali che fa un cliente nei primi secondi è diciamo così l'inizio dell'unboxing experience e di nuovo nessun pitch diciamo così ma veramente si può personalizzare l'esperienza di acquisto del nostro cliente senza grossi investimenti a priori anche prima di aver scalato quindi chiudo dicendo che l'imballaggio comunica la vostra azienda e pensate anche nell'imballo come volete essere rappresentati grazie a tutti e rimango a disposizione per qualsiasi domanda allora grazie mille Alberto molto interessante anche questo packaging as a service che credo che sia un po' il punto di svolta probabilmente dell'ultimo anno degli ultimi anni come come approccio anche alla alla gestione dei materiali di magazzino che è un po' diverso che permette anche di essere sempre al passo immagino con l'innovazione perché alla fine non accustando alla fine il macchinario se poi ci sono ulteriori innovazioni siete voi stessi magari a proporre l'innovazione al cliente assolutamente gli stessi clienti avevamo dei clienti che per anni vendevano non so prodotti di luminotecnica lampadine quindi prodotti molto delicati da spedire con il classico imballo a schiuma quindi anche con un rischio chimico e con un prodotto assolutamente non riciclabile si è passati a delle soluzioni intermedie fino ad arrivare a un buon imballaggio in carta con un ottimo livello di protezione sugli stessi clienti con lo stesso tipo di partnership e sì cosa che non avrebbero potuto fare sicuramente in tempi così rapidi se avesse acquistato il macchinario perché dovevano ammortizzare assolutamente molto interessante grazie mille allora riprendo un attimo il controllo del ok dell'avanzamento per passare invece a quello che riguarda noi come Kapla ovvero la parte finale di personalizzazione della delivery experience e del marketing post spedizione allora di cosa ci occupiamo molti di voi magari già ci conoscono giusto due parole per spiegare quali sono i nostri tre pilastri sui quali andiamo a lavorare il primo anche in ordine diciamo temporale di utilizzo della nostra piattaforma è la parte di gestione delle etichette ovvero permettiamo di stampare più velocemente le etichette grazie sia all'interfaccia web ma soprattutto anche grazie alle nostre integrazioni API che permettono di integrare un unico sistema e avere a disposizione n vettori adesso siamo arrivati quasi a 50 vettori per la parte di stampa poi c'è tutta la parte di tracciamento e di controllo sulle spedizioni che permette al customer care di abbattere le tempistiche di verifica dello stato di avanzamento della spedizione e soprattutto permette di intervenire per tempo anzi prima ancora che il cliente se ne accorga su eventuali problemi quindi prevenire le problematiche o comunque il contatto da parte del cliente in caso di problemi l'espedizione ha un indirizzo errato clienti che non c'era una spedizione che è stata persa danneggiata e così via e poi l'ultima parte è quella sulla quale ci focalizzeremo adesso che per noi è anche la più importante in termini anche di tipo di servizio che è la personalizzazione delle mail transazionali e delle tracking page che adesso andiamo a vedere in dettaglio sicuramente i momenti che seguono l'acquisto su e-commerce sono tutti gli effetti parte della customer experience perché nel momento in cui il cliente fa l'acquisto non si ferma lì poi il suo rapporto con l'azienda e con l'e-commerce ma si va ovviamente oltre fino alla parte di attesa del pacco vi sarà capitato anche a voi ovviamente facendo un acquisto da un qualsiasi e-commerce di vivere come esperienza diretta della qualità del servizio del venditore stesso anche tutta la fase fino alla consegna del pacco ci rientra qui anche tutto quello che abbiamo visto prima con i due Alberti relativamente anche alla parte di personalizzazione del packaging perché l'esperienza di unboxing inizia prima ancora di aprire la box e la scatola arrivata che è già un primo impatto lo abbiamo con la confezione che ci arriva quindi questa esperienza qui contribuisce sicuramente a consolidare l'immagine del brand e anche la relazione con il cliente abbiamo fatto una ricerca negli scorsi mesi con Anguess che è un nostro partner che si occupa proprio anche di fare survey e interviste di questo tipo dove abbiamo chiesto a dei clienti finali qual è la prima azione che fai dopo aver effettuato l'ordine ecco il 75% delle persone controlla la mail per vedere se è arrivata la conferma dell'ordine quindi un'attenzione altissima a una mail transazionale classica che è quella di verifica dell'ordine arrivato correttamente perché avere come controprova come controinformazione il fatto di aver ricevuto l'ordine fa stare un po' più tranquillo il cliente del fatto che quella fase sia stata smarcata in maniera corretta il 12% controlla l'account per vedere se c'è l'ordine nel commerce stesso fa il paio con quella precedente magari perché non è arrivata la mail e il 10% controlla se il pagamento non è andato a buon fine quindi molti vanno più a controllare se è arrivata la conferma dell'ordine più che andare a vedere se il merchant ha debitato correttamente l'importo o meno solo un 3% attende la comunicazione sullo stato di spedizione questo subito dopo aver effettuato l'ordine anche perché appena effettuato l'ordine insomma ci vuole comunque un po' di tempo vediamo invece quali sono gli effetti sulla fidelizzazione dei clienti e-commerce l'altra domanda era acquisteresti nuovamente su uno shop online che non ti ha comunicato lo stato di lanzamento della tua spedizione nell'ordine il 60% dice non lo so cioè non so se effettivamente acquisterei nuovamente da quell'e-commerce sono in dubbio il 17% è stato netto no il 23% comunque dice sì l'altra domanda è come vivi la mancanza di comunicazione dello stato di avanzamento della spedizione dell'ordine e qui il 47% degli utenti dichiara che gli crea ansia quindi il fatto di non avere la comunicazione dell'avanzamento della spedizione al cliente dà un po' di ansia e il 33% dice che mina la credibilità dello shop dal quale ha acquistato e probabilmente non riacquisterebbe più anche questo qui è un segnale abbastanza importante perché abbiamo circa il 70-80% totale di utenti che vive questa mancanza di informazione in maniera molto molto negativa a differenza delle due domande dove esplicitamente della domanda precedente dove esplicitamente era solo il 60% dei non lo so abbiamo anche un 14% che diceva non mi interessa prima o poi mi arriverà ok va bene si affidano un po' alla speranza ma ok cosa intendiamo invece per marketing post-pedizione e per migliorare l'esperienza proprio di delivery prima di tutto si parla di personalizzazione della pagina di tracking quindi con widget che permettono di inserire branding cioè di fare branding sul cliente finale o di dare informazioni sul customer care o di inserire informazioni di marketing o commerciali come articoli correlati e quant'altro quello vedremo meglio dopo le mail transazionali invece sono tutti quei messaggi che arrivano via mail prima abbiamo visto che il 70% controllava la mail per la conferma dell'ordine quella è una mail transazionale altre mail transazionali sono banalmente quelle di presa in carico da parte del corriere e consegna dell'ordine in corso e poi ci sono le comunicazioni via sms o whatsapp o altri media che danno comunicazione al cliente finale sul telefono tipicamente in modalità quasi real time per dirvi che sta arrivando il pacco o che è successo qualcosa alla sua spedizione qui vediamo un esempio di cosa vuol dire personalizzare una mail e poi una tracking page per esempio nella mail che normalmente invia il corriere non c'è tutta la parte di personalizzazione del brand perché di solito sono mail solo testo ci sono informazioni strettamente necessarie alla gestione della consegna e non c'è tipicamente il brand come dicevo prima di chi ha spedito l'esempio invece a destra è quello di una mail completamente personalizzata che poi ha anche una tracking page che può essere personalizzata anche quella qui vi faccio un esempio di una tracking page che include anche un video perché in questo caso il cliente ha voluto inserire un video che dà quell'elemento di comunicazione diverso in più però come vedete la tracking page può essere utilizzata così come la mail come uno strumento di comunicazione è completamente nuovo e qui il limite è solamente la fantasia vediamo un po' di numeri vediamo un po' di percentuali in questo caso i tassi di apertura delle mail transazionali medi i tassi di apertura medi sono molto più elevati rispetto a quelli delle mail non transazionali ovvero delle dem o delle newsletter un tasso di apertura medio per una transazionale del 44% capite che è molto alto compreso il tasso di click dell'8 e 8% rispetto a un 3-3 di una normale mail non transazionale ma andando a vedere in particolare le mail che hanno a che fare con le consegne che ci sono nostri dati interni vediamo che la mail di partito ha una media di apertura dell'oltre il 50% con picchi massimi che arrivano a circa l'80 quasi il 90% quella di consegna anche è molto aperta in generale perché il cliente non aspetta altro e poi ci sono anche le altre mail compreso quella di consegnato che di solito viene considerata come una mail tra virgolette inutile e invece ha altissimi tassi di apertura e permette di fare delle operazioni davvero interessanti anche di comunicazione pensate banalmente che in quella mail di consegnato si può anche inserire la richiesta di feedback per alimentare poi un sistema di feedback come possono essere trust pilot o recensioni verificate o altri poi ci sono diversi utilizzi che si possono fare per le mail di post-ospedizione possono essere utilizzate come dicevo prima come strumenti di comunicazione commerciali o tagli di branding inserendo prodotti correlati inserendo dei coupon di sconto o banalmente inserendo un registro tra la newsletter oppure possono essere utilizzati per fare branding e basta e fare storytelling dove io posso inserire le informazioni legate ai produttori in questo caso di questo cliente alle storie e così via quindi non utilizzo queste comunicazioni per fare pushing commerciale ma per fare branding a tutti gli effetti un caso studio in particolare nel settore pharma giusto come esempio in questo caso all'interno della tracking page posso inserire un visita alla pagina dei coupon oppure un presente ad un amico con la relativa offerta che vale sia per l'amico presentato che per me la richiesta di recensione anche in questo caso oppure la parte di assistenza costante quindi seguici sui social oppure ti chiamiamo noi quindi ti do in evidenza il numero del customer care e quant'altro oppure i contenuti del mio blog questo è un dato di un account di analytics su 12 mesi in questo caso è vero che i volumi sono particolarmente elevati anche di spedizione ma è anche vero che le mail transazionali e le tracking page hanno portato a casa circa un milione anzi un milione e due di fatturato extra questo vuol dire che questi acquisti sono stati portati a casa da delle mail che normalmente non sarebbero state inviate se il processo fosse stato quello diciamo tradizionale standard e affidato a un servizio esterno come quello che normalmente offre il vettore ed è molto importante questa cosa perché io li chiamo ordini gratis che in effetti sono ordini che arrivano da traffico che altrimenti non avremmo avuto la comunicazione sulla spedizione alla fine chiude un cerchio perfetto che parte da quello che ci hanno fatto vedere Alberto Serenelli di Alberto Ventura prima della parte di gestione anche del packaging in magazzino e quindi tutta la parte di brandizzazione poi le notifiche in real time la restituzione del pack e quindi poi anche l'utilizzo di un packaging sostenibile considerate che gli utenti sono sempre più attenti a questi aspetti un po' perché magari sono anche attenti a quello che succede quando c'è la raccolta della carta in alcune zone c'è il porta a porta come nel paese nel quale vivo dove ogni sabato sera ci sono le confezioni in tantissimi commerce fuori dalla porta e ci si rende conto di quanto pervasivo sia diventato il servizio di consegna agli utenti finali quindi magari anche pensare a dei sistemi che abbiano un impatto minore laddove è possibile riciclare il packaging tanto di guadagnato e riciclare intendo riutilizzarlo scusate laddove invece è possibile riciclarlo per creare altri package altre scatole o altri imballaggi da poter utilizzare dopo ben venga comunque è sempre meglio degli imballi riciclabili con la carta che non sulla parte di plastica o altro ma di questo ne aveva già parlato prima Alberto Ventura quindi detto questo è importantissimo gestire la parte del delivery experience davvero considerandola nella maniera più ampia possibile e qui passo la palla ad eventuali richieste e domande che sono arrivate in chat e vi ringrazio per aver passato con noi questa mezz'ora intanto ci sono già delle domande un attimo che le recupero allora la prima era fatto da Jonathan che spero sia ancora collegato è stata fatta penso mentre stava parlando Alberto Ventura se non ricordo male quali sono i metodi che utilizzate per comunicare l'importanza della sostenibilità anche degli imballi ai vostri clienti questa vale sia per entrambi gli alberti certo Alberto ti lascio partire ti ringrazio allora come comunichiamo la nostra sostenibilità dipende dal tipo di cliente abbiamo diverse migliaia di clienti con diversi tipi di relazione quindi da chi ci ordina tramite il sito quindi abbiamo una comunicazione ovviamente newsletter banner cataloghi cartacei e la classica comunicazione web a chi ha una diciamo così una relazione one to one con il nostro dipartimento commerciale e quindi si comunica diciamo così da persona a persona come comunichiamo sugli imballi e tramite gli imballi allora innanzitutto con la certificazione dei prodotti banalmente tutte le nostre scatole sono certificate FSC abbiamo siamo diciamo così parte della catena di custodia FSC stessa abbiamo pubblichiamo o comunque abbiamo disponibili tutte le certificazioni di prodotti e stiamo entrando sempre di più in un concetto di filiera di trasparenza di filiera sulla diciamo così sull'origine la trasformazione la distribuzione del del prodotto stesso quindi cerchiamo di accompagnare alla vendita del prodotto anche un pochino per quanto possibile di contenuto quando noi spediamo il nostro prodotto al cliente e-commerce la nostra diciamo così etichettatura ambientale è a regola d'arte da prima diciamo così che fosse che fosse obbligatorio per un corretto smaltimento quindi diciamo così tutte le occasioni dalla comunicazione istituzionale alla consegna del prodotto stesso alla certificazione del prodotto cerchiamo di far passare questo messaggio non è facile perché per definizione una scatola o un nastro adesivo sono prodotti banali banalizzati è molto difficile per noi anche comunicare stiamo cercando di farlo appunto in un concetto di filiera sempre di più arriveremo poi magari anche alla blockchain e alla tracciabilità di ogni singola componente dell'imballo però per noi è estremamente importante dire che non so attenzione che guardate che tutti i nastri adesivi che noi vendiamo ai nostri clienti sono made in Italy quindi tutti sono fatti la carta gommata è fatta con una colla naturale quindi tutta una serie di prodotti anche banalizzati cercare di comunicarli al meglio possibile Per quanto riguarda Movopac e innanzitutto grazie Jonathan per la domanda sicuramente la comunicazione è una priorità nel senso che è toccato veramente un punto fondamentale per noi tanto più appunto perché noi quando arriviamo con la nostra comunicazione al cliente non solo esprimiamo la sostenibilità che il nostro packaging ha rispetto ad altri competitor diciamo ma soprattutto noi abbiamo anche una finalità educativa istruttiva nel senso appunto che noi dobbiamo andare a comunicare al cliente come poter rimettere in circolo il nostro packaging come avviene questo? Sulla personalizzazione del packaging quindi come dicevo prima noi studiamo sempre dei claim attinenti alla sostenibilità che vanno chiaramente a far capire a rappresentare quanto quel brand quelli e-commerce punti e credono nella sostenibilità ambientale dall'altro punto di vista invece abbiamo anche degli strumenti accessori al packaging quali per esempio un flyer in carta FSC dove andiamo a ripercorrere quelli che appunto sono i gesti che deve fare il cliente e spiegare la finalità del nostro servizio del nostro progetto quindi chiaramente per noi la comunicazione è fondamentale e avviene sul packaging e grazie appunto a questo flyer e al QR code che vanno a spiegare proprio in modo molto semplice e interattivo e intuitivo al cliente cosa deve fare se vuole dare una nuova vita a questo packaging e farlo riutilizzare per la seconda terza quarta volta ok ma molto molto interessante e grazie per i chiarimenti passiamo all'altra domanda di Fabrizio questa immagino sia per Alberto ma cioè per tutti e due anche in questo caso scusate la personalizzazione grafica vi deve essere fornita dall'azienda sulla base dei vostri format oppure venne occupate voi fornendo il brand book lascia Adalberto e poi parto io stavolta infatti dice Movo maggiormente ok perfetto grazie mille per la domanda allora per quanto riguarda la personalizzazione noi di MovoPack abbiamo un team interno di design e prodotto quindi quello che noi di solito facciamo in quello che è l'iter poi in cui si prende una decisione poi con le aziende che vogliono adottare il nostro servizio è quello di ragionare innanzitutto sul design quindi che sia una box rigida che sia una bag invece flessibile i diversi materiali e poi andare a decidere insieme qual è il punto di partenza il punto di ispirazione del nostro design grafico per creare appunto la personalizzazione quindi di base nasce su proposte del nostro team che va a fare appunto continue proposte con il marketing il team grafico dell'azienda che sceglie MovoPack fino ad arrivare appunto poi alla personalizzazione grafica ricercata dal cliente in questo caso quindi quello che noi chiediamo inizialmente sono chiaramente i loghi vettoriali e un'idea che poi i nostri grafici concretizzano in pdf in vari file che vengono poi sottoposti all'ufficio marketing quindi di base è un lavoro che facciamo noi a meno che il cliente non chieda di farlo fare al proprio team grafico interno rispondo anche io molto molto velocemente per noi sì più o meno la stessa cosa dipende ovviamente dalla tipologia di prodotto se è un nastro adesivo dove ho bisogno di un singolo logo ci basta il logo e l'area su cui voglio stampare se è sulla scatola ovviamente stampa interna stampa esterna i colori i cliché comunque sì è un qualcosa su cui noi supportiamo direttamente il cliente non abbiamo bisogno diciamo così del input fatto e finito come fossimo diciamo così una tipografia gestendo diverse tipologie di prodotto su diversi materiali c'è uno studio da fare insieme che siamo felici ovviamente di affrontare con i nostri clienti per darvi un'idea come accennava Alberto le possibilità di personalizzazione sono tantissime dimensioni colori materiali loghi stampa sull'interno stampa sull'interno stampa sul mendrino in passato abbiamo anche provato a mettere dei configuratori sul sito internet francamente la redemption di una conversazione con il nostro team interno è sicuramente superiore siamo siamo una siamo un'azienda radicata diciamo così in Italia abbiamo delle persone che sono ben felici di supportare eventuali clienti anche per un'idea diciamo così embrionale quindi eventualmente chiamateci scriveteci e vi si dà una mano volentieri la cosa interessante che credo sia venuta fuori oggi soprattutto è che l'ambito diciamo del packaging sta uscendo direi anche finalmente dall'ambito delle sole operation perché diventa anche un territorio del marketing dove ci si può poi sbizzarrire in base alla creatività del team e delle richieste dell'azienda su diversi aspetti e questo sicuramente è un bene che aiuta anche nel differenziarsi in qualche modo sul cliente finale allora in chat non ci sono altre domande se ne avete altre fatele pure abbiamo giusto spazio per l'ultima nel frattempo ve ne faccio io una approfitto più che altro di Alberto Serenelli perché Alberto Ventura su questa aveva già risposto durante il suo intervento i packaging di nuovo possono anche essere utilizzati per il reso assolutamente sì come diceva Alberto nel suo intervento anche noi di Movupack diamo proprio nel nostro design nella nostra storia del prodotto quella che è la possibilità e la facilità nel poterlo riconsegnare il prodotto che non dovesse andare bene per diversi motivi come reso prodotto all'azienda chiaramente appunto essendo un packaging riutilizzabile si presta facilmente a questo ritorno presso il negozio in questo caso ci organizziamo poi con le aziende per cercare poi di non fare disruption logistiche rispetto a come sono abituate quindi per esempio fornendo un sigillo di chiusura in più contenuto nel packaging o eventualmente chi decide anche di inserire già la lettera di reso all'interno del packaging una cosa su cui puntiamo molto noi di Movupack è il fatto appunto che qualora ci sia un reso prodotto quindi venga riconsegnato all'e-commerce non andiamo a far sì sostanzialmente di far ripagare il packaging essendo il nostro un servizio come abbiamo detto ogni qualvolta il packaging torni nei nostri magazzini per riaverlo c'è un posto da pagare quindi è un packaging è un posto ad utilizzo in questo caso qualora ci fosse un reso prodotto in quel caso l'azienda e-commerce può decidere di provvedere all'igienizzazione diciamo fatta in casa con il nostro know-how che forniamo e quindi riutilizzarlo gratuitamente o poter chiedere a MovoPack di igienizzare il packaging per poi riutilizzarlo direttamente in loco quindi assolutamente sì e anzi lavoriamo molto con il reso che è una parte importante poi dei nostri accordi con i nostri con i nostri clienti ok perfetto grazie mille per le ulteriori informazioni allora io direi siamo siamo arrivati praticamente all'ora precisa dello speech del totale degli interventi ringrazio le persone che ci hanno seguito fino a questo momento ringrazio ancora Alberto Serenelli e Alberto Ventura per aver condiviso con noi una serie di informazioni che a ridosso del break friday sicuramente sono interessanti soprattutto per pianificare il prossimo per arrivare ancora più preparati per l'anno prossimo e quindi vi ringrazio grazie mille a te Roberto tutto il tuo team il team anche di Raja per questo webinar è stato veramente interessante assolutamente anche per noi grazie a tutti grazie e vi auguro un buon black friday e un buon fine settimana a questo punto gli acquisti sia ricevuti ma anche magari da fare e ci si aggiorna al prossimo appuntamento al prossimo webinar grazie ancora ciao buona serata grazie